Quindi andiamo a vedere la prima delle due grandi guerre che si vengono a creare in questo scontro tra civiltà. La prima guerra persiana, che va dal 492 al 490 a.C. e poi vedremo la seconda guerra persiana, che invece va dal 480 al 479 d.C. Quindi la prima guerra persiana dura tre anni, 490, qua c'è 492, 91, 90, mentre la seconda guerra persiana due anni, dal 400 al 479. Allora, abbiamo già parlato un po' delle diverse concezioni politiche delle due civiltà, adesso andiamo a analizzare come scoppia il conflitto effettivamente. Perché la guerra di per sé scoppia nel 492. Però ci sono degli antefatti, chiaramente. Per capire le conseguenze di una guerra e le cause di una guerra, bisogna andare un po' a ritroso nel tempo. E andare a ritroso nel tempo vuol dire andare addirittura all'episodio di cui abbiamo già parlato, di Ciro, che conquista la Lidia. La Lidia del re Creso viene conquistata da Ciro, abbiamo detto, nel 546 a.C. Nel 546 a.C., quindi la Lidia, guardate dov'è la regione della Lidia rispetto all'Asia minore, e vedrete che si trova proprio nella parte più occidentale di quella penisola che noi chiamiamo oggi Turchia. Lidia è la parte proprio a occidente, che si affaccia al ridosso della Ionia, cosiddetta Ionia, che era una serie di tantissime isolette che appartenevano all'Ellade, quindi alla cultura greca. Quando Ciro conquista la Lidia, in realtà che cosa succede? Già il re Creso, cioè il re che era in Lidia prima della conquista di Ciro, aveva sottomesso tutte quelle poleis greche che si affacciavano proprio sulle coste della Lidia, quindi la cosiddetta Ionia. Tutte queste poleis, tra cui la più importante era Mileto, e quindi erano assoggettate al potere di Creso. Quando Ciro conquista la Lidia e fa fuori re Creso, si sostituisce il potere di Ciro a quello di Creso, e anche le città greche dell'Asia Minore, della Ionia, passano sotto il potere dell'impero persiano, del re Ciro. Ora, a dir la verità, sia il re Creso che poi Ciro attueranno una politica di enorme tolleranza nei confronti di queste poleis greche, proprio perché le poleis greche tenevano tanto la loro indipendenza, Ciro non le sottomise in maniera brutale, ma preferì tenercle buone, alleate, dandogli notevoli autonomie politiche ed economiche anche. Però, con il passare del tempo, i persiani chiedevano sempre più tributi, sempre più tasse agli abitanti della Ionia, di queste isolette sparse nel mare Geo, confinanti quasi con la Lidia, e i greci iniziavano a non poterne più di questa tassazione, anche perché odiavano i persiani e sentivano di appartenere a una cultura totalmente diversa, quindi odiavano la cultura persiana, quindi c'erano più cause per cui poi si arrivò al conflitto. E da una parte, quindi, la tassazione ingente è sempre più alta, dall'altra un odio viscerale nei confronti di questa cultura. Nel frattempo, col passare degli anni, quindi questo nel 546, Ciro conquista la Lidia e le colonie greche passano sotto il controllo di Ciro. Nel 514, Dario, invece, conquista la Tracia. La Tracia sarebbe l'odierna Bulgaria. La Bulgaria è a nord della Macedonia e la Macedonia è a nord di quella che noi oggi chiamiamo Grecia. Conquistando la Bulgaria, in realtà, sottomette indirettamente lo stato confinante, che è la Macedonia. La Macedonia la sottomette non a livello di... non è che viene conquistata, però la costringe a versare dei tributi all'impero romano, quindi passa sotto il dominio persiano, in qualche modo, senza bisogno di una conquista. Rimane il re macedone, locale, che gestisce tutto, però annualmente, per non farsi guerra con l'impero persiano, perché avevano paura di perdere contro il re di Persia, pagano un tributo all'impero persiano. Che cosa vuol dire questo? Perché poi scoppia il conflitto con la Grecia? Perché nel frattempo le polis greche, che confinavano con la Macedonia, vedendo che l'avanzata dell'impero persiano, questo impero gigantesco, stava arrivando dalle loro parti, perché aveva appena conquistato la Tracia e aveva soggettato la Macedonia, quindi da un momento all'altro poteva capitare che a Dario venisse l'idea di conquistare la Grecia, quindi erano in ansia, non erano tranquilli, guardavano con sospetto i movimenti dell'impero persiano. Quindi che cosa succede? Che un po' perché le polis greche dell'Ellade, quindi del continente, quella che noi oggi chiamiamo Grecia, erano preoccupate dall'avanzata della Grecia, un po' perché nell'Ionia, nelle isole dell'Ionia, venivano aumentate le tasse e c'era quest'odio nei confronti della cultura persiana, la città di Mileto, questa polis dell'Ionia, si ribella a Dario e all'impero persiano. Si ribella e ribellando si chiede l'aiuto di Atene e di Sparta, perché da sola una piccola isoletta vicino all'impero persiano non sarebbe mai riuscita a sostenere una guerra contro la Persia. Chiede l'aiuto di Sparta, inizialmente che però gli risponde due di picche, nel senso che non l'avrebbe aiutato, invece Atene, per sostenere la ribellione, invia una ventina di navi, sia Atene che un'altra polis accettano di aiutare Mileto, Eritrea è l'altra polis. Quindi parte questa piccola flotta di Atenesi e di Eritrei per sostenere la ribellione di Mileto e inizialmente i rivoltosi hanno successo, addirittura riescono a conquistare la città della Satrapia, Sardi, e a soggettarla al potere del greco. Però in poco tempo l'impero persiano reagisce a questa ribellione, parte alla controoffensiva, riprende Sardi, torna nella Lidia e addirittura con la flotta sbarca Mileto, la distrugge proprio la rada al suolo e uccide gran parte dei suoi abitanti e il resto lo prende come schiavo e li deportano in Asia. Quindi in questo modo la ribellione di Mileto è finita. Quindi come scoppia la prima guerra persiana? La prima guerra persiana scoppia perché a questo punto Dario aveva un pretesto per attaccare la Grecia, perché Atene aveva osato appoggiare i ribelli di Mileto contro l'impero persiano. Quindi adesso Dario aveva il pretesto per attaccare Atene, anche a livello di opinione pubblica. Cosa avrà mai detto Dario? Avrà detto che gli Atenesi hanno aiutato i Milesi a distruggere e a conquistare Sardi e quindi adesso bisogna vendicare ciò che hanno fatto e andare a fargli guerra. Ed è proprio quello che è successo effettivamente. Mileto viene distrutta nel 494, due anni dopo e nell'estate del 494 viene distrutta Mileto. Nel 490 Dario invia in Grecia, quindi Dario il re di Perse, invia in Grecia una cifra per l'epoca già enorme come esercito, tra i 20.000 e i 25.000 uomini. Quindi tantissimo, un esercito veramente gigantesco. Con loro c'era anche Ippia. Vi ricordate Ippia il figlio di Pisistrato, il tiranno che era scappato da Atene perché gli Atenesi avevano chiesto l'aiuto degli Spartani per cacciarlo e Ippia si era rifugiato dal re persiano Dario. Adesso Ippia seguiva l'esercito persiano nella speranza di poter ribaltare il governo atenese e tornare lui al potere alleato dei persiani. Quindi l'esercito persiano si muove con tutti questi soldati con una flotta che parte dall'Anatolia, quindi dalla Turchia, da quella che noi oggi chiamiamo Turchia e arriva nell'Eubea, che è a nord dell'Attica ed è la regione dove era situata Eritrea, cioè l'altra polis che aveva aiutato Mileto nella ribellione. Eritrea viene anche quella rasa al suolo e i suoi abitanti vengono fatti schiavi e deportati in Asia. Atene, nel frattempo, aspettando l'avanzata che i persiani a questo punto da nord scendessero verso sud, verso la loro città, si preparano alla guerra, si preparano alla lotta. L'esercito persiano si era accampato a Maratona alla bellezza di 42 chilometri, soli 42 chilometri d'Atene. L'esercito persiano era composto da 10.000 ateniesi, ovvero la metà e meno addirittura della metà dell'esercito persiano. Ed erano comandati da questo generale, di cui dovete ricordarvi il nome perché è un eroe di queste guerre, che è Milziade. Milziade guidava l'esercito ateniese e questi 10.000 ateniesi. Cosa succede? Che fu così, nella famosa battaglia di Maratona, che Milziade, grazie a una tattica e una strategia militare particolare, riuscì a sconfiggere i persiani. Quindi 10.000 ateniesi sconfissero 20-25.000 persiani. Fu un evento grandioso. Milziade ci riuscì perché sfruttò il territorio. Siccome l'accampamento persiano era su una valle, alle cui spalle, che era una piana o la piana di Maratona appunto, alle cui spalle si estendeva una palude che separava i persiani dal mare, dove c'erano tutte le triremi attraccate della flotta persiana, e che cosa succede? Invece gli ateniesi erano soprelevati rispetto alla pianura, alla piana di Maratona. Quando Milziade decide di attaccare subito, senza attendere una battaglia in campo aperto sulla piana, decise di caricare il nemico a gran velocità, senza perdere neanche un attimo, e l'impatto, essendo loro soprelevati, e i persiani invece più sotto, questa tattica risultò vincente, perché l'impatto e la forza d'urto dell'esercito ateniese riuscì a schiacciare, grazie anche all'imprevedibilità, quello persiano. Tanto che si parla appunto di solo 200 morti da parte dell'esercito ateniese e 6.000 morti dell'esercito invece persiano. Gran parte dei persiani, tra l'altro, quindi schiacciati dalla palude alle spalle, non riuscirono, avevano le spalle bloccate, e questo non consentì a loro di spostarsi più indietro rispetto all'avanzata e all'attacco ateniese. E quando finirono, provarono a scappare, perché gli atenesi avevano messo in fuga l'esercito persiano, durante la fuga furono moltissimi soldati ad affogare nella palude. Addirittura gli atenesi raggiunsero la flotta persiana, bruciarono molte di quelle navi e ne rubarono altre. Fu una battaglia importantissima per la storia della Grecia e per la storia dell'umanità, perché per la prima volta queste due civiltà si erano scontrate e Atene aveva dimostrato a tutta la Grecia che due cose fondamentalmente. Uno, che combattere per la libertà, la libertà della propria indipendenza, era più importante che combattere per la conquista, perché qui era in gioco la libertà stessa di Atene. E poi, secondo, che il modello democratico era risultato vincente, perché chi si scontrava in campo erano dei cittadini atenesi che volevano salvare la loro città contro dei sudditi di un impero che combattevano perché gliel'aveva ordinato il loro sovrano Dio. Quindi fu una grandissima vittoria molto simbolica che dette una grande risonanza anche ad Atene. Atene dal niente, quindi diventò subito la grande potenza greca. Però vedremo che scopperà un secondo conflitto tra Grecia e Persia. Grazie. Grazie.